Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ladri in azione nella notte all'interno della filiale dell'UbiBanca a Mondavio Sequestrati 16 chili di eroina al porto di Ancona Arrestato dalla Guardia di Finanza un trafficante 37enne albanese Ceriscioli presenta il bilancio di fine mandato Più di 200 milioni di investimenti finanziati dalla Regione Marche nella provincia di Pesaro e Urbino dal 2015 al 2019 La pozzanghera più grande d'Italia alle ore contate Il sindaco di Fanno Seri risponde al nostro segnalatore e annuncia interventi già la prossima settimana Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Ladri in azione la scorsa notte all'interno della filiale dell'UbiBanca a Mondavio I malviventi si sono introdotti all'interno dei locali passando da una porta riservata ai disabili Furto con scasso la scorsa notte alla filiale dell'UbiBanca di Mondavio in via Straitel 1 Questa volta, cosa alquanto singolare rispetto alla norma I ladri non hanno fatto saltare lo sportello Bancomat esterno Ma forzando la porta d'ingresso e poi successivamente l'entrata destinata ai portatori di handicap Si sono introdotti nei locali della banca e con la solita tecnica della marmotta Hanno fatto saltare la macchinetta blindata del cassiere Quella che eroga il contante in automatico La deflagrazione violentissima è avvenuta all'incirca alle 3.30 E ha scagliato i pezzi della cassetta a diversi metri e fatto crollare Per lo spostamento d'aria anche il controsoffitto dei locali Oltre a devastare l'intero spazio aperto della filiale con fogli, carte e oggetti d'ufficio Sparsi per tutto il locale come solo una deflagrazione può fare L'allarme è scattato subito ma i ladri hanno agito in pochissimo tempo Impossessandosi del contante contenuto nella cassetta Una cifra compresa tra i 10.000 e i 15.000 euro Ma ancora da quantificare con precisione Mentre i danni causati dall'esplosione ai locali sono decisamente maggiori L'esplosione è stata ben udibile in tutto il caseggiato Compreso all'inquilino del piano di sotto svegliato di soprassalto nel cuore della notte Come avvenne anche a gennaio del 2018 Quando invece sempre ignoti fecero esplodere il bancomat esterno Sul posto è arrivata subito la pattuglia dei carabinieri della locale stazione di Mondavio Che dista poche centinaia di metri dalla filiale Ma i malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce Inutilizzabili purtroppo le immagini della telecamera esterna all'entrata Dato che la banda ha annerito con della vernice spray nera L'occhio della telecamera prima di entrare in azione La filiale dal punto di vista amministrativo ha ripreso ad operare già nel pomeriggio Nonostante i notevoli disagi per impiegati e responsabili di filiale Che a loro arrivo hanno avvertito forte l'acre odore dell'esplosivo presente nell'aria E sulle superfici di lavoro Ora le indagini per risalire i responsabili del furto Sono affidate alla compagnia Carabinieri di Fano Coordinata dal capitano Papalo Si terrà domani a fermo davanti al GIP Cesare Marziali L'udienza di convalida del fermo della 38enne bulgara Arrestata dai Carabinieri per le accuse di incendio doloso e morte Come conseguenza di un altro reato Per la morte della figlia di 6 anni Deceduta a seguito di un incendio notturno Divampato in un appartamento a Servigliano Provincia di Fermo l'8 gennaio scorso La svolta nelle indagini è arrivata ieri Dopo le dimissioni della donna dall'ospedale Dove è stata curata per ustioni e intossicazione È stata sentita di nuovo e poi fermata dai Carabinieri E trasferita nel carcere di Villa Fastigia a Pesaro La donna difesa dall'avvocato Gianmarco Sabbioni Aveva raccontato che stava dormendo con le due figlie di 6 e 4 anni Il compagno 38enne non era in casa Che era stata svegliata dall'odore del fumo Che aveva portato fuori la figlia più piccola E che non era riuscita a tornare nell'abitazione Per salvare l'altra figlia Una versione che però non ha convinto gli investigatori In particolare dopo i primi accertamenti tecnici L'indagine è coordinata dal PM di Fermo Francesca Perlini Sequestrati al porto di Ancona 16 kg di eroina Arrestato dalla Guardia di Finanza Un trafficante di 37 anni Albanese La Guardia di Finanza di Ancona Ha sequestrato 16.300 grammi di eroina al porto La sostanza stupefacente Era confezionata in 14 panetti nascosti All'interno di un doppio fondo in metallo Ricavato sotto il sedile di un furgone Sbarcato dalla motonave proveniente Della città di Durazzo in Albania L'operazione antidroga È stata condotta anche grazie al fiuto Di un pastore tedesco Il quale nonostante l'abile occultamento È riuscito a segnalare al conduttore La presenza di una sostanza illegale L'automezzo è stato sottoposto ad esame radiologico Attraverso il sistema scanner In dotazione all'ufficio delle dogane L'ingente quantitativo dello stupefacente È stato posto al sequestro Così come la somma di 3.775.000 euro Ricavati dall'attività illecita Rinvenuti al conducente del mezzo Il responsabile del trasporto È un cittadino di nazionalità albanese Di 37 anni Senza precedenti specifici È stato tratto in arresto E associato alla casa circondariale di Montacuto Dalle indagini condotte È emerso che la droga Una volta messa sul mercato Avrebbe fruttato un guadagno Di oltre mezzo milione di euro Due operai sono rimasti intossicati Dal monossido di carbonio Sprigionato da un macchinario Che stavano utilizzando in un locale È accaduto a Pescara in un cantiere di via Tirino In tarda mattinata I due, un 39enne e un 65enne Accertata l'intossicazione in pronto soccorso Sono stati trasferiti al centro iperbarico di Fano Per essere sottoposti a trattamento A lanciare l'allarme al 118 È stato un collega Uno dei due era svenuto L'altro accusava invece malessere e cefalea Presentato il rendiconto della Regione Marche Sugli investimenti nella provincia di Pesaro e Urbino Vediamo Superano i 229 milioni di euro Gli investimenti finanziati dalla Regione Marche Nella provincia di Pesaro e Urbino Dal 2015 al 2019 Oltre 223,4 milioni hanno riguardato gli interventi Sostenuti con i fondi regionali ordinari Mentre più di 5,7 milioni sono stati promossi Con le risorse del sisma E quanto emerge dalla rendicontazione presentata Dal presidente Luca Ceriscioli alla stampa Presso la sala del consiglio della provincia Parliamo di circa 230 milioni di investimenti in 4 anni Classificabili in macro categoria La prima è quella delle connessioni Intesa come strade Dopo molti anni con il passaggio delle strade Della provincia della regione Abbiamo investito oltre 30 milioni Nella viabilità di questo territorio Andando a recuperare situazioni che erano in difficoltà compromesse 25 milioni nella banda ultralarga Per portare la fibra ottica In ogni parte di questo territorio Una terza voce sulle connessioni in termini di importanza Sono le ciclovie 13 milioni di euro Che permetteranno di rafforzare la ciclovia adriatica Nonché gli assi che dalla costa vengono nell'area interna Un secondo capitolo sull'edilizia Per avere edifici più sicuri e qualificati In modo particolare in questo caso Edilizia scolastica Tutto sono 100 milioni Una trentina di milioni in edilizia scolastica Dentro un quadro regionale Che ha visto oltre 500 interventi a favore delle scuole Per la loro messa in sicurezza La terza voce non meno importante La difesa del suolo Parliamo di 27 milioni di euro Fra difesa della costa Il tema delle frane e dei fiumi Ceriscioli ha voluto poi sottolineare un dato Quello della difesa del suolo Nel suo programma amministrativo Afferma che raddoppierà i 50 milioni di euro investiti Mentre per gli investimenti in edilizia sanitaria Il nuovo ospedale unico Non rientra nel rendiconto proposto In quanto non ancora realizzato Il presidente della regione Ha tratto complessivamente un bilancio Di quasi 30 milioni già investiti Nelle strutture sanitarie Del territorio Di cui 12 milioni urbino E oltre 4 milioni per gli ospedali Di Cagli e Pergola Gli investimenti della regione Si sono focalizzati anche sui temi Della genitorialità scuola e lavoro Pensiamo alla famiglia dove c'è stato Un grosso investimento sui nidi Sulla conciliazione Il prossimo bando uscirà per le donne Che hanno bisogno di stare a casa Con i bambini piccoli Accanto a questo parliamo della scuola Parliamo di un investimento forte Sull'edilizia scolastica Ma parliamo anche della volontà Di mantenere i presidi territoriali Perché nessuna scuola è la succursale della città Sul fronte del lavoro Il grosso investimento ultimo Sono stati i 27 milioni Per la creazione di impresa Sono i 49 milioni sui disoccupati Sono gli 8 milioni sugli ITS E gli FTS Quindi 8 più 2, 10 E una ventina di milioni sulle filiere Nella giornata di ieri Il vicepresidente dell'assemblea regionale Delle Marche Renato Claudio Minardi Ha annunciato che la regione Ha messo sul piatto 1 milione e 600 mila euro Per i ripascimenti delle spiagge E la manutenzione delle scogliere A Fano andranno 151 mila euro E risulta essere il comune di Fano Il primo delle marche Per risorse regionali assegnate Sono arrivati già da tempo Dei soldi per costruire Un setto Una scogliera Davanti Diciamo davanti Anfiteatro Rastate Ai bagni Maurizio Qui a Sassonia Un appalto che abbiamo fatto Durante lo scorso anno Abbiamo una ditta vincitrice Intorno al 20 febbraio Firmeremo il contratto E dunque potrebbero Ci sono tutte le premesse Perché i lavori possono iniziare In primavera E finire prima dell'estate E questo quindi sicuramente È una buona notizia Come una buona notizia Il fatto che Oltre a questo impegno Appunto qui davanti Proseguiremo Cercando di chiuderemo Chiuderemo le scogliere Fino al porto di Fano Grazie a un ulteriore finanziamento Appena arrivato Per cui a giorni Partirà la gara d'appalto Per realizzare altre due scogliere Che appunto chiudono Tutta la difesa della costa di Sassonia Dal valore di un milione Per cui l'appalto è in corso Ovviamente noi speriamo Di iniziarle prima dell'estate I tempi tecnici Purtroppo sono molto stretti Quindi cercheremo di fare di tutto Ma non ci si ferma qui Perché recentemente Sono arrivati dei soldi Che noi pensiamo Di destinare alle scogliere Di Ponte Sasso Perché anche a Ponte Sasso Il sud del Metauro Soffrono L'ultima mareggiate di dicembre Insomma ce l'hanno anche dimostrato Perché lì le scogliere ci sono Però sono nel tempo Caduti massi Si sono un po' Come dire Rotte dalla forza del mare Ovviamente Quindi lì è prevista Una manutenzione straordinaria Da fare in due anni Nel 2020 Quindi quest'anno Nel 2021 Grazie ai soldi Che la regione Marchese ha dato Per un totale di circa In tutto circa 340.000 euro E dunque sono lavori importanti Che serviranno solo per riformare Diciamo la forma Appunto di queste scogliere Abbiamo voluto aprire Tra virgolette Un altro fronte Che è quello di Dare una spiaggia A Metauriglia Quindi sud del Metauro Subito sud del fiume Metauro Un'importante località Nota ovviamente per le sue casette particolari Per i suoi orti di mare Ma a cui vogliamo dare uno sviluppo turistico Quindi pensare E mettere in campo un progetto In questo caso da 4.200.000 euro Per proteggere anche quella parte Di spiaggia Di ritorale fanese È un progetto molto importante Che ci fa vedere un po' il futuro Quindi quell'investimento Fatto dal comune di Fano Ma finanziato dalla regione Marche E dal RFI È un investimento molto importante Oggi ad Ascoli Piceno C'è stata la festa La quinta Festa della polizia locale Sono stati premiati Tanti agenti di polizia Noi ovviamente Ci soffermiamo in particolare Su quelli del comando di Fano Sono due gli agenti Che hanno ricevuto Dei riconoscimenti Da parte della regione Sono il sovrintendente capo Roberto Stefanelli E il sovrintendente Maurizio Valentini Che hanno eseguito Per un intervento Compiuto lo scorso 10 settembre Nel corso del quale Durante un'operazione di controllo Del territorio Hanno fermato Un uomo risultato Essere in forte stato Di alterazione psicologica e fisica I due agenti sono stati premiati Alla presenza del comandante Anarita Montagna Dell'assessore con delega Da polizia locale Sara Cucchiarini Il sindaco di Fano Risponde al nostro segnalatore Che proprio ieri Nell'edizione del telegiornale Ci aveva mostrato Con una video segnalazione Quella che abbiamo definito La pozzanghera più grande d'Italia Pozzanghera che Ai giorni contatti Perché il sindaco Che ieri ha visto il telegiornale Ha risposto oggi Così Caro sindaco Buonasera Ecco Questa è L'interruzione della strada Perché qua c'è un bel laghetto Ecco Adesso devo tornare indietro Guardi Bello Lei aveva detto che metteva a posto Qua un anno fa Anche i bidoni dell'immondizia Però ancora qua è tutto così Ecco tutto l'acqua Devo dire che il video del concittadino È stato anche simpatico e gentile Pur evidenziando un problema Ha detto anche una cosa che ho apprezzato Facendo riferimento al sindaco Che il sindaco aveva promesso Che si sarebbe impegnato a risolvere il problema E oggi sono qui Perché ancora una volta Dimostro che quello che dico Cerco di mantenerlo Poi ovviamente Le tempistiche Sono quelle Che devono fare i conti Con la struttura Con le disponibilità che abbiamo Gli uffici mi hanno detto Che dalla settimana prossima Io cerco di essere sempre prudente Dico Fra due settimane Così abbiamo qualche giorno in più Partiranno i lavori E cosa faremo? Andremo a chiudere I posti esistenti Che non erano in grado Di raccogliere le acque Ed non erano funzionali Al problema All'esigenza Quindi faremo dei nuovi collettori Che si traduce in un adeguamento Della rete fognaria Quindi dei collettori Che si collegheranno Con la rete fognaria Che è alla rottatoria Poco vicino Poco lontano da qua Faremo delle caditoie Bordi delle strade Per raccogliere le acque Che poi andranno A ricollegarsi con la rete fognaria In questo modo si risolve il problema Fra due settimane Inizieranno i lavori E anche questo Come annunciato E come promesso Si risolverà questo problema E l'intervento lo faremo Quindi vorrei sottolineare questa cosa Che ancora una volta Quanto detto E quanto assunto come impegno Viene rispettato Questa mattina è stato presentato Il nuovo logo Che segnerà Il festeggiamento Per il settantesimo anno Di attività Dell'Avis di Fano Vediamo Cerimonia in grande stile Questa mattina All'interno Della sala di rappresentanza Della Cassa di Risparmio di Fano Illustrati Alla presenza Degli studenti Dei loro insegnanti I loghi vincitori Del concorso Dei settant'anni Di attività Dell'Avis di Fano Previsti Per il 15 di marzo prossimo La commissione Composta dal presidente Marco Savelli Dal consigliere Giuseppe Franchini Dal maestro professionista Mauro Chiappa Insieme all'assessore Caterina del Bianco Hanno decretato Vincitore Il bozzetto Di Davide Servadio Dove ha rappresentato Il numero 70 Attraverso La goccia di sangue Con all'interno A simboleggiare La città di Fano L'arco d'Augusto Seconda classificata Invece Nicole Guiducci Mentre i terzi Il gruppo Formato da Matteo Brunetti Gianluca Tinti Michael Sabatinelli Luca Bassotti E Giorgio Schiavoni La goccia Che abbraccia L'arco d'Augusto E che Commenta Il settantesimo È indubbiamente Una bella idea Che potrà caratterizzare L'attività Avis Dei prossimi Cinque anni Questo ragazzo Della grafica Pubblicitaria È stato premiato E sarà premiato Diciamo così Già Fin dal Dai simboli Che caratterizzeranno La nostra Il nostro Anno sociale E sarà premiato Anche Attraverso L'annullo filatelico Che abbiamo già Ottenuto Dalle poste Il concorso Che ha fruttato Ben 94 elaborati Ha visto La partecipazione Dei ragazzi Del corso Di grafica Pubblicitaria Federico Seneca E del liceo Artistico Polloni Di Fan Oltre ai bozzetti Alcuni studenti Hanno voluto Omaggiare L'Avis Fanese Con tre Originali idee Stadentes E studenti Hanno regalato Alla nostra città E alla nostra Associazione Tre modelli Con una stampante 3D Di tre bellissime Panchine Hanno fatto dei lavori Di gruppo Eccezionali E noi lanciando Questa sfida Del logo I ragazzi hanno Risposto in un modo Stupendo E hanno girato Questa sfida Non soltanto Alla nostra associazione Ma hanno girato La sfida Alla nostra Amministrazione E quindi Noi facciamo Un appello Alla città Affinché veramente Queste tre bellissime Panchine Vengono allocate In posti preziosi Il telegiornale Finisce qui Grazie per averci seguito Ci vediamo Domani mattina Alle 7 In diretta Con Occhio ai giornali La rassegna stampa Arrivederci Grazie a tutti La rassegna stampa La rassegna stampa